I cittadini di Villa Collemandina preferirebbero la fusione con Castiglione Garfagnana. E' questo l'esito del referendum popolare non ufficiale organizzato dall'amministrazione comunale. Il municipio guidato da Dorino Tamagnini ha invitato i cittadini ad esprimersi sulla scelta del comune confinante con cui iniziare la procedura di fusione. L'adesione è stata notevole con 372 persone che sono andate a votare nei tre seggi aperti per l'occasione, Corfino, Massa, Sassorosso e Capoluogo. Questo è il risultato. Garfagnano un voto, Pieve Fosciana 5, San Romano di Garfagnana 57, Castiglione di Garfagnana 309. In qualche modo è stata rispettata la dichiarazione di voto raccolta ai nostri microfoni il giorno precedente all'elezione. A breve inizieranno gli atti ufficiali e anche Castiglione aprirà ufficialmente la procedura di fusione con Villa. Oltre al miglioramento dei servizi, i due comuni potranno soffrire di un importante finanziamento da spendere nel nuovo territorio comunale nei prossimi anni. Grazie. 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 Grazie.